per realizzare la borsa bisogna innanzitutto procurarsi un paio di jeans io avevo questi jeans da uomo che mio figlio non mette più e quindi ho deciso di utilizzarli in questo modo si piegano e si parte si tiene come misura il cavallo calcoliamo qualche centimetro dal cavallo e andiamo a tagliare i nostri pantaloni in questo modo cerchiamo di fare un taglio abbastanza dritto a parte che poi lo raddrizziamo però se cerchiamo di tagliarli dritto è meglio subito partire con un bel taglio dritto ecco fatto in questo modo e taglio tutti e due i gambali ora devo utilizzare soltanto la parte superiore dei pantaloni questa devo innanzitutto scucire questa zona per poter poi effettuare un taglio e raddrizzare e raddrizzare i pantaloni in pratica devo soltanto eliminare questo modo devo eliminare qua il cavallo fare un taglio dritto in questo modo vi mostro subito come fare procede in questo modo effettua un taglio al di sopra della cucitura rigida sia sul davanti dei pantaloni che sul dietro tolgo completamente questa cucitura rigida in modo che poi mi venga più facile e poter tagliare la parte la parte del cavallo ora piego i pantaloni ecco fatto in questo modo e vi mostro bene la parte che bisogna eliminare bisogna eliminare proprio questo pezzettino qui vedete qui c'è la fine della cerniera no ecco dobbiamo cercare di fare un taglio dritto in questo modo al limite ci possiamo ecco qua bisogna tagliare qua così ci possiamo aiutare tracciando una riga adesso vi mostro subito come fare ho messo il jeans a rovescio in modo che io possa tracciare delle righe con la matita per far sì che poi sulla parte dritta non si veda devo cercare proprio di raddrizzare di togliere completamente questo pezzo qua spero che poi riusciate a farlo bene perché se no si vede quando poi viene cucita si nota un piccolo difettuccio sotto l'attaccatura della cerniera però ecco quell'inconveniente si può rimediare perché poi andremo ad applicare dei fiori fatti all'uncinetto e quindi al limite applichiamo un fiorellino proprio dove c'è quel piccolo dislivello diciamo e quindi la cosa non sarà molto visibile perciò io traccio una riga in questo modo ecco fatto ed ora taglio la stoffa ecco fatto ecco ho cercato di pareggiare di raddrizzare la stoffa più possibile faccio la stessa cosa dall'altra parte dall'altra parte il pezzo che devo tagliare un pochettino più grande perché come potete notare la forma del gis da uomo e questa no quindi cerco di ecco penso che tanto così posso andare bene poi va bene cominciate non cominciate subito con tagliare tantissima stoffa perché altrimenti se poi ne tagliaste troppo il lavoro è rovinato cominciate un attimino a tagliarne un pochettino se poi vedete che non è ancora livellata bene non è ancora bella dritta fate un altro taglio ecco tanto tagliare sia sempre in tempo ecco ecco fatto dunque vediamo un po come viene direi di salire ancora un attimino un taglio così poi penso che possa bastare anche io preferisco tagliarli in due tempi in modo che sono sicura di non rovinare la stoffa ecco adesso l'ho pareggiata perfettamente ecco taglio in questo modo qua ecco fatto ho togliato completamente la stoffa ora cerco di pareggiare il taglio che ho fatto quando ho tolto i gambali ora metto gli spilli per poter poi eseguire la cucitura macchina in questo modo non faccio l'imbastitura perché non serve metto soltanto degli spilli per vedere se devo tagliare ancora della stoffa se va bene così anche dall'altra parte metto gli spilli cerco di essere il più precisa possibile perché voglio proprio vedere se mi fa difetto in questa posizione qua è questo un pochino il punto critico però come vi ripeto non preoccupatevi poi con un fiorellino con qualche cosa se ci fosse qualche piccolo difetto si riesce a mascherarlo vediamo un attimino qua così ecco ora rapprizzo il la storfa raddrizzo il pantalone voglio vedere che effetto fa sul dritto allora dato che è stato tagliato la parte del cavallo la parte rigida è logico che quasi formi un pochettino la piega perché mancando la stoffa dovuto per forza di cose accavallare questo pezzo sull'altro però dato che poi metto un elastico faccio la borsa un pochino arricciata questa questa piega non si nota se vediamo sul retro come viene ecco sul retro la stessa cosa c'è un pochettino la stoffa che copre l'altra però come vi ripeto è normale adesso procediamo con le cuciture a macchina dobbiamo innanzitutto cucire la parte del del cavallo dei pantaloni e poi cucire tutto il fondo logicamente raddrizzando un pochettino le cuciture cucendo tutto il fondo e per far sì in questo modo riusciamo a dare già la una forma alla nostra borsa dopo aver fatto questo lavoro passiamo alla parte superiore le cuciture sono state fatte tutte ed ora bisogna preparare il fondo della borsa in questo modo quindi si prendono si prende la borsa la si apre ecco cercando proprio di non lasciare grinze questo modo qua partendo dall'angolo si misurano 3 cm partendo da questo angolo qua si misurano 3 cm in questo modo 3 cm così si piega bene per cercare di avere una riga dritta e si va a fare una cucitura in questo senso per formare l'angolo della borsa adesso ve lo segno con una matita così almeno voi riuscite a capire meglio perché forse anche troppo buio non si vede bene quindi si misurano 3 cm dall'angolo che si fa una cucitura in questo senso qua sia da una parte della borsa che nell'altro angolo ora ho messo la borsa sul sul dritto l'ho girata volevo farvi vedere il fondo come è venuto perfetto guardate che bella cucitura ecco poi per renderlo rigido possiamo mettere all'interno o un cartoncino foderato di stoffa di jeans o di altra stoffa oppure tenere anche un fondo morbido così io non ho ancora deciso probabilmente terrò morbido così perché poi arricciando la borsa forse meglio ora vi faccio vedere come arricciare la borsa all'interno dove c'è in pratica la cintura dei pantaloni la parte della cintura dove ci sono anche i passanti bisogna cucire un pezzo di elastico ho agganciato la prima parte di elastico con una cucitura macchina ora andrò ad attaccare anche l'altra estremità in questo modo tirando molto l'elastico tirandolo molto così e cucendolo prendendo all'interno anche la stoffa che si arriccia ecco dovrò cucirlo in questo modo vedete si formano delle pieghe e io dovrò cucire tutta la tutto l'elastico la stoffa così come si presenta ho cucito l'elastico all'interno della borsa e come potete notare comincia già ad arricciarsi ora a seconda che vuoi la voglia la vogliate molto arricciata oppure un po meno arricciata andate a mettere gli elastici sempre all'interno del bordo quindi dato che io la voglio un po riccia metterò ancora un elastico qua un elastico dietro e se riesco un altro elastico sul lato perché voglio proprio un effetto tipo caramella finisco di cucire gli elastici e vi faccio vedere il risultato l'arricciatura della borsa è terminata questo è il risultato semplicemente inserendo degli elastici all'interno sono riuscita ad arricciare tutta la stoffa esterna tutto il bordo adesso vi mostro come realizzare i manici per realizzare i manici della borsa io ho utilizzato le bretelle di uno zaino che non usavo più potete benissimo utilizzare anche queste cinture che si trovano a poco prezzo sul mercato o dai cinesi si toglie questa fibbia si sfila il pezzettino di corda in questo modo e poi si va a cucire sulla borsa ora vi faccio vedere come cucirla io voglio fare due manici quindi prendo il pezzettino di corda e lo vado a cucire esattamente sul fianco della borsa uno dalla parte in pratica devo cucire questi manici in questo modo quindi devo cucirne un manico sulla parte anteriore della borsa e l'altro manico sulla parte posteriore sempre alla stessa distanza e possibilmente cioè possibilmente dovete far di tutto perché siano cuciti alla stessa lunghezza vi mostro come fare allora innanzitutto dovete prendere la misura con degli spilli quindi questo qua è il jeans tenete come punto di riferimento la cucitura laterale e alla sinistra della cucitura laterale puntate uno spillo per fermare il manico poi bisogna calcolare quanti centimetri avete lasciato all'interno del jeans in modo che voi possiate fare la stessa cosa con l'altro pezzettino di corda e attaccare così il primo manico secondo manico la stessa cosa vi orientate con la cucitura laterale ecco in questo modo la cucitura è qui quindi sulla parte destra della cucitura pratica di fronte all'altra cucitura ecco in questo modo punta allo spillo poi si misura bene la distanza dell'aggancio al jeans e con l'altro con l'altra estremità della cordina si fa lo stesso lavoro dall'altra parte in modo che poi la borsa questi questi qua poi risultano dei manici della borsa adesso io vado cucirli e vi mostro il risultato finale nel frattempo ho cominciato ad impreziosire un attimino la borsa cucendo del pizzetto sul bordino delle tasche ecco poi dopo che abbiamo fatto i manici comincia la parte più creativa la parte più bella della della borsa perché poi cominceremo ad attaccare non so qualche perlina qualche fiorellino adesso dobbiamo soltanto creare diciamo la struttura della borsa poi piano piano possiamo lasciare spazio alla nostra fantasia arricchire la borsa come più piace a noi benissimo adesso cuccio i manici e vi faccio vedere il risultato dopo aver cucito i manici ho voluto fare un piccolo ricamo all'interno del manico dove c'è la dove proprio il manico è stato attaccato al bordo giusto per dare qualche cosina di particolare ecco adesso comincia la parte come vi dicevo prima la parte creativa la parte dove noi possiamo dare spazio alla nostra fantasia per personalizzare la nostra borsa io voglio cominciare creando un fiorellino da attaccare su una taschina al centro adesso vediamo e vi mostro subito che fiorellino ho intenzione di applicare alla borsa io ho a disposizione queste varie tipologie di fiori e fra tutti quelli che preferisco è questo fiorellino qua ho intenzione di realizzare qualche fiore da applicare alla borsa e poi mi sono ho trovato questo nastrino penso di applicarlo da qualche parte insomma comincio con il realizzare fiorellini e poi vediamo un attimino come sviluppare questo progetto che ho in mente io vi vi metto la spiegazione vi metto i tutorial per la realizzazione dei vari fiori voi non dovete far altro che cliccare in alto a destra del vostro monitor dove c'è la i e in automatico sarete indirizzati al tutorial nel quale vi spiegherò la realizzazione di questi fiori adesso io preparo qualche fiorellino poi lo applico alla borsa e vi mostro il risultato finale voi scegliete il modello di fiore che preferite potete ecco preparato anche una piastrella granny una piastrella granny semplicissima potete se non volete applicare dei fiori applicare anche tutta un applicare tutto un bordo di piastrelle oppure qualche piastrellina sparsa sulla superficie della borsa insomma qui potete proprio giocare con la vostra fantasia io comunque adesso faccio qualche fiorellino cerco di personalizzare al meglio e al massimo questa borsa e quando avrò finito vi mostrerò il risultato vi mostrerò cioè come piace la borsa come come piace a me la borsa ecco ci vediamo fra poco mi raccomando per la realizzazione dei fiorellini seguite gli altri tutorial la borsa è terminata e volevo mostrarvi in che ordine ho sistemato le decorazioni ho messo dei fiorellini in lana in ordine sparso ho cercato di abbinare le varie tonalità di colore infatti ho fatto tutte delle tonalità sul rosa ho applicato sull'altra parte della borsa dei cuoricini di legno cercando di ricreare il tema principale che è il fiore e mi sono procurata una cinturetta e la per usarla come chiusura della borsa proprio con il tema del fiore ho cucito questa passamaneria questo nastrino di passameria passamaneria ho applicato delle perline sul bordino in pizzo che avevo cucito in precedenza anche qui sulla taschina piccola ho cucito della passamaneria uguale a quella che ho applicato sulla cerniera il risultato che ho ottenuto devo dire che mi soddisfa molto la borsa è molto capiente e le dimensioni della borsa dipendono logicamente dalla dimensione del jeans più grande largo di vita il jeans più la borsa sarà capiente io non voglio applicare la calamita per la chiusura perché mi serve proprio come un borsone contenitore però nel caso voi voleste per sicurezza chiuderla applicate all'interno una cerni una calamita si trovano anche dai cinesi senza nessun problema e la borsa si chiuderà al centro il tutorial è terminato spero che vi sia piaciuto spero che il mio progetto vi sia vi sia piaciuto come al solito vi ringrazio veramente per l'affetto con il quale mi seguite e ci rivediamo risentiamo e ci diamo appuntamento al prossimo video tutorial grazie ciao